Bella ragazzi sono qui oggi con questo nuovo video in cui vi parlerò di due telefoni che mi hanno colpito dall'ultimo IFA di Berlino 2015 partiamo da Huawei Mate S, successore di Mate 7, sono un possessore di Mate 7 soddisfatto e oggi parlerò di questo nuovo smartphone, il successore appunto del 7 che è stato rivisto innanzitutto con un nuovo schermo da 5,5 pollici, AMOLED non IPS come il modello precedente Full HD, quindi non è stato implementato il 2K ma è stato conservato un Full HD che è un ottimo bilancio tra consumo e prestazioni reali poi un ottimo design tutto in alluminio, il sistema di importi digitali che vediamo qui collocato sotto la fotocamera che è da 13 megapixel con doppio flash LED, con doppia temperatura del flash poi fotocamera frontale da 8 megapixel, 3 tasti di navigazione che sono quelli stock di Google implementata la tecnologia del Force Touch che è stata vista anche su iPhone 6S Huawei ha anticipato Apple per contribuire alla presentazione, una vera innovazione nel mondo degli smartphone premendo lo schermo possiamo interagire con nuove opzioni eccetera quindi nuovi gesture diciamo che possiamo mettere tra le virgolette molto grandi poi sempre in prodotti digitali rivisto molto più preciso, più affidabile potremo pagare anche penso con questo sensore poi fotocamera come dicevo 13 megapixel doppio flash LED modalità professionale potrà girare video in 4K e foto tramite software a 41 megapixel HDR Plus ottima batteria da 3000 mAh che però c'è stato un downgrade rispetto a quella 4000 del Mate 7 e anche un downgrade di dimensioni si è passato da 6 pollici a 5,5 pollici come abbiamo visto in precedenza smart recording quindi la registrazione più facile più immediata ma anche di qualità migliore e poi anche la stampa wireless passiamo ad un altro phablet che mi ha colpito veramente tantissimo Acer Predator 6 monterà un Decacore di Mediatek Helio X20 già l'X10 era potentissimo pensiamo questo X20 pensate questo X20 Decacore quanto potrà poi essere potente con questo Predator 6 lo smartphone per i nerd lo smartphone per i gamer 4 giga di RAM uno schermo qui c'è scritto HD ma mi sembra dovrebbe essere full HD perché HD non è niente di che è sprecato ma veramente design bellissimo io adoro questo smartphone vi farò vedere più foto qui io lo adoro è un design particolare con uno smartphone che si differenzia dalla massa materiali particolari ci sarà anche una variante da 8 pollici un tablet da 8 pollici sempre per i gamer possiamo vedere come il design è un pochetto qui stondato presenta un piccolo bozzo diciamo tra virgolette sul retro ma serve per aumentare il grip la presa sarà un piccolo tablet 6 pollici cornici non molto ottimizzate ma veramente bellissimo ragazzi mi sono innamorato di questo di questo telefono Acer Siri cerca di rilanciarsi nel mondo degli smartphone dopo che ha venduto abbastanza nel mondo dei computer e così così nel mondo dei tablet e quindi prova a rilanciarsi dopo la serie Liquid che non ha impressionato molto e che non non aveva un vero e proprio top di gamma mentre invece con questo con questo smartphone e con la variante tablet 8 pollici punta al mercato dei gamer utilizzando anche Android Stock che cosa che apprezzo molto perché le personalizzazioni da parte dei costruttori delle case come Asus eccetera apprecentiscono molto l'interfaccia e la fluidità dello smartphone quindi spero che questa voce vi piaccia questo nuovo microfono e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti